Vi è un passaggio molto bello del Gorgia di Platone 481b 506b nel quale passaggio Callicle, il sofista, fa un intervento di grande importanza filosofica perché essenzialmente prende posizione fermamente contro l'idea di un nomos convenzionale, di una legge, come tradurranno con espressione non propriamente convincente, dirà Heidegger e dirà anche Carl Schmitt il termine greco nomos, la legge convenzionale è dal punto di vista di Callicle qualcosa che deve essere contestato e deve essere contestato essenzialmente in ragione del fatto, scrive Platone, che per Callicle e per la sofistica da lui rappresentata il nomos è il modo in cui i più deboli si organizzano per limitare e dominare l'aristocrazia naturale dei più forti. L'argomento di Callicle in sostanza è quello secondo il quale se si rimuovesse il nomos allora prevarrebbe quella che potremmo definire la legge di natura, la lex nature, in accordo con la quale a triunfare è necessariamente il più forte o per usare il lessico impiegato da Callicle l'aristocrazia dei migliori o i aristoi, i migliori, quelli che sono più forti, che hanno maggiore vigoria dello spirito e del corpo. L'argomento di Callicle è interessante perché rappresenta il classico punto di vista sofistico o meglio uno dei classici punti di vista sofistici che Platone perlustra e analizza nei suoi dialoghi. Naturalmente Socrate avrà buon gioco a rovesciare la prospettiva di Callicle e a sottolineare l'importanza del nomos. Ciò che mi preme sottolineare tuttavia con un salto clamoroso nel tempo che ci porta al nostro presente è che in fondo l'argomento di Callicle, mutatis mutandis, è l'argomento sotteso al punto di vista, alla prospettiva di quello che oggi è noto come liberismo. Il liberismo di fatto non è altro che un tentativo di rendere operativa, pur senza menzionarla, la legge di Callicle, il produrre quella che il lessico contemporaneo, mercatistico chiama la deregulation, la deregolamentazione, ossia si potrebbe anche rendere così in riferimento al mondo classico l'annichilimento del nomos, se per nomos intendiamo la legge convenzionale che disciplina lo status nature e fa sì che prevalga una forma di socialità convenzionale che tutela effettivamente, come anche Callicle potrebbe dire, i più deboli, i meno forti. In effetti possiamo senza perifrasi sostenere che larga parte del Novecento e più precisamente della seconda metà del Novecento è stato anche un tentativo di porre un nomos nell'accezione di Callicle, è stato un tentativo di normare quella potenza della natura scatenata che è il mercato lasciato a se stesso. Del resto, pur senza citare specificamente Callicle, un esponente della sofistica liberista contemporanea come Fonayek, il nome tutelare del liberismo cosmopolita centrato sull'idea di un mercato deregolamentato e borderless, esteso quanto il mondo e non di meno presupponente uno Stato forte a modi guardiano che garantisce il retto funzionamento del mercato senza interventismi di lacci e lacci e lacciuoli statali. Ebbene, il sofista liberista Fonayek, nei suoi ragionamenti intorno al liberismo, sostiene apertamente, ad esempio nel suo testo in cui ragiona esattamente sulla servitù coincidente con tutto ciò che liberismo non è di fatto, perché Fonayek critica direttamente il socialismo, quale si viene concretamente realizzando nell'Ottocento, ma poi adimire in verità ogni possibile forma di intervento dello Stato nell'economia. Ebbene, Fonayek lo dice testualmente, in maniera palese, che il liberismo presuppone, se ridotto al suo nucleo essenziale, che la concorrenza senza limitazioni, senza nomos, se volessimo dirla con Callicle, senza legge, è la ragione più alta per fare in modo che si regolino le relazioni umane. Il liberismo in altri termini coincide, se volessimo dirla ancora con Callicle, con la legge del più forte, la legge di natura, che viene lasciata procedere motu proprio senza che subentri il nomos, la convenzione che difende i più deboli. Ecco perché da questo punto di vista, senza esagerazioni credo, possiamo dire che il liberismo non è altro che il teorema di Callicle riprodotto nella società contemporanea, ridefinita di fatto come uno status nature nel quale vige la legge del più forte. Il bellum omnium contra omnes, teorizzato sulle soglie della modernità dal leviatano di Tommaso Hobbes, ritorna oggi in effetti come società dei mercati deregolamentati, come status nature nel quale decide la forza del più forte, la forza di chi è più in grado di competere e di imporre il proprio punto di vista grazie alla semplice forza del competitivismo, senza alcun nomos che possa intervenire. Si capisce in quest'ottica perché von Hayek apertamente possa sostenere nei suoi scritti che l'idea stessa di una giustizia sociale è in realtà la massima ingiustizia, perché va a turbare quel cosmos, egli lo chiama espressamente così, il cosmos, la naturalezza data già da sempre della legge del mercato, va a turbare quel cosmos e impone invece una forma di nomos convenzionale che in quanto tale viola la sacra legge naturale della competitività mercatistica. Sicché per Callicle, proprio come per von Hayek, si tratta in fondo di annichilire ogni nomos convenzionale a difesa dei più deboli e di lasciare che si esprima liberamente la potenza dei più potenti, ossia la legge della pura natura data in quanto tale, che naturalmente Callicle concepisce nella sua maniera più ampia, von Hayek concepisce invece in maniera mercatistica legata alla lex del mercato, ridefinito appunto come bellum omnium contra omnes. In effetti, senza esagerazioni ancora, possiamo dire che il liberismo con la sua vocazione deregolamentante e insieme riregolamentante, lavora esattamente con le categorie di Callicle, perché per un verso mira a deregolamentare il mercato di modo che esso non subisca perturbazioni legate al nomos, alla legge dei più deboli, alla morale del gregge, se volessimo dirla alla maniera di Nietzsche. Laddove in seconda istanza procede poi, dopo aver deregolamentato il mercato, riregolamentandolo con leggi che siano di fatto a tutela della legge del più forte. Lo stato liberista, così come si realizza oggi nella cornice storica post-1989 e così come viene apertamente teorizzato da von Hayek, è uno stato che di fatto svolge la parte del guardiano notturno, per usare un'espressione classica della stagione liberale. Il guardiano notturno non fa altro che aggirarsi fra i luoghi del mercato a controllare che il mercanteggiare proceda senza disturbi e impedimenti introdotti da forze terze. in sostanza è una forza che vigila per il mercato, governa per il mercato e non il mercato, governa di modo che il mercato proceda senza impedimenti. È quello che oggi nel lessico della nostra contemporaneità, della nostra costellazione post-nazionale come la chiamata Habermas, figura essenzialmente come governabilità. Governabilità in fondo dice questo, dice un modo di procedere tale per cui lo stato altro ufficio non ha se non di lasciare che il mercato proceda da sé senza interferenze esterne, senza moti di controllo, senza perturbazioni altre rispetto al puro modo di procedere del mercato inteso come forza che si autoregolamenta da sé, senza bisogno di interventi. Ecco perché anche in questa prospettiva si dà una feconda assonanza fra il discorso della sofistica di Callicle nel Gorgia Platonico e il discorso della nuova sofistica liberista, il cui nocciolo fondamentale a ben vedere è il miraggio, perché di miraggio si tratta, in accordo con il quale la giustizia si produce tramite il mercato, affidandosi cioè integralmente alla potenza che basta a sé stessa del mercato. Ora noi sappiamo, quando anche non vogliamo prestare ascolto alle visioni più radicalmente marxiste e leniniste, noi sappiamo comunque che quale che sia l'angolo prospettico da cui lo guardiamo, il mercato da solo non produce giustizia, produce l'utile del più forte, se volessimo dirla con un altro esponente della sofistica chiamato in causa da Platone in un altro suo dialogo, il primo libro della Repubblica, cioè Trasimaco, che smaschera esattamente il concetto anche oggi dominante di giustizia che in realtà è un nomos che non fa altro che giuridificare la legge del più forte, cioè la legge messa a tema da Callicle. Si dà sotto questo profilo una piena complementarietà fra la tesi di Trasimaco nel primo libro della Repubblica e la tesi di Callicle nel Gorgia. L'utile del più forte, ossia la legge di natura, deve essere anche la sola legge riconosciuto, essenzialmente deve essere essa soltanto il nomos riconosciuto e fatto valere. In quest'ottica il liberismo opera alla maniera sofistica effettivamente, perché pone in essere una legge che altro non è se non la legge del più forte a beneficio del più forte. La deregulation, la deregolamentazione produce esattamente questo campo di conflitto permanente che esiste nella figura del competitivismo radicale. Del competitivismo radicale in forza del quale, tra le altre caratteristiche, si ha anche una sorta di annullamento della stagione dei diritti sociali legati alla cittadinanza di uno Stato sovrano welfareisticamente che inesianamente praticato e inteso. Quelli che un tempo erano diritti scaturenti dalla stagione del welfare, rampollanti dalle conquiste salariali delle classi più deboli e istituzionalizzati grazie alla forza normante dello Stato nazionale, tendono a essere ridefiniti come merci. Questo avviene nell'ambito dell'istruzione, della sanità e in tutti gli ambiti che un tempo erano pertinenti rispetto al pubblico, rispetto allo Stato welfareistico. Diventano merci cioè astrattamente disponibili per tutti e concretamente disponibili per chi possa permetterseli nell'ambito della competitività generale che riduce la società tutta a un grande mercato, come recentemente ha sottolineato in un suo studio Alain de Benoît, la société ne fa un marché, cioè la società non è un mercato. Ebbene la ragione liberista tende invece a ridefinire esattamente la società come un marché, come un mercato competitivo, dove appunto prevale la legge del più forte. Crolla allora quello che in fondo era stato uno dei miraggi della stagione moderna, lo si trova in Ferguson come in Montesquieu, lo si trova come in Benjamin Costin e negli altri autori della Galassia Liberale, ossia il teorema in accordo con il quale il guerreggiare degli antichi è sostituito dal calcolare e dal mercanteggiare dei moderni e di una libertà intesa come competitività, potremmo tradurre così il discorso di questi padri nobili del liberismo contemporaneo. In realtà il dolce commercio, secondo una formula che ricorre largamente, quasi fosse un topos nel dibattito a cavaliere tra 700 e 800, ecco il dolce commercio in realtà è realmente poco dolce, convive anzi con forme di bellicismo economicistico, il liberismo scatena anzi una guerra competitivista senza frontiere, è il caso di dire. Già Marx nel capitale scherniva e sbertucciava i teorici del dolce commercio dopo aver descritto la spietata efferatezza del capitale, grondante sangue e sporcizia dalla testa ai pori, ricorrente a leggi fra il grottesco e il terroristico, sono tutte espressioni che ricorrono nel libro primo del capitale di Carlo Marx ebbene dopo aver schernito e denunziato queste prerogative del mondo capitalistico dice eccolo il dolce commercio, questo è il dolce commercio a cui fanno riferimento i teorici, tra cui Montesquieu e ripeto del dolce commercio. In realtà è una guerra a tutti gli effetti, una guerra intesa come competitivismo, come legge del più forte. In effetti senza esagerazioni si potrebbe ancora dire che il cosiddetto libero mercato, il competitivismo può altresì intendersi vuoi come libera volpe in libero pollaio, secondo l'espressione a cui ricorre spesso Serge Latouche in Francia per descrivere l'anomia, la perigliosa anomia del libero mercato liberista. Può essere anche definito come un libero cannibalismo di fatto, mediante il quale è concessa piena libertà di uccidere ai più forti in assenza di uno stato come terzium che modera e disciplina il conflitto e che viene neutralizzato dalla potenza liberista dominante. Più precisamente, anche su questo bisognerebbe gettare luce, non si tratta dal punto di vista liberistico di neutralizzare e annullare lo stato, si tratta semmai di ridefinirlo e rifunzionalizzarlo al servigio del mercato. Sotto questo profilo effettivamente con il mondo liberista lo stato non cessa di esistere, cessa semmai di esistere come superiore non reconnaissance, secondo la formula di Baudin. Cessa di esistere come legibus solutus, come stante al di sopra rispetto alle leggi e come realtà suprema. Lo stato liberista è sottoposto a qualcosa di più alto che è appunto il mercato, che diventa esso stesso il superiorem non reconnaissance e il legibus solutus, perché nel rovesciamento del rapporto fra stato e mercato è ora il mercato a dettare leggi allo stato e ad avvalersi dello stato come proprio strumento. Lo stato liberista in effetti è lo stato che non governa il mercato, ma che governa per il mercato, che governa di modo tale che il mercato proceda sempre indisturbatamente a beneficio della legge di Callicle, del più forte, senza che mai vengano reintrodotti margini di nomos in grado di disciplinare il mercato a beneficio dei più deboli. Sotto questo profilo, se volessimo riflettere e attualizzare il teorema di Callicle, potremmo dire che il teorema di Callicle si realizza nella ragione liberista che desovranizza l'economia rispetto alla potenza statale, laddove invece il contrasto della legge di Callicle si avrebbe qualora si reintroducessero margini di nomos in grado di limitare la forza onnipossente letteralmente del mercato deregolamentato. Per porre dei limiti alla pura potenza del più forte occorre reintrodurre un principio keynesiano e welfaristico di risocializzazione dell'economia, la quale risocializzazione dell'economia presuppone tuttavia una sovranità nazionale dello Stato tale per cui lo Stato possa intervenire nell'economia, disciplinarla e porsi esso stesso in quanto sovrano come superiorem non recognoscens, reintroducendo quel rapporto tra Stato e mercato squisitamente moderno nel quale era lo Stato a stare sopra il mercato e a disciplinarlo. Ecco perché la legge di Callicle è essenzialmente oggi nell'odierna cornice del liberismo cosmopolita la legge del più forte, ossia la legge dei ceti che dal libero mercato traggono vantaggio, riuscendo a imporre questa loro narrazione squisitamente di classe anche ai ceti più deboli i quali per converso avrebbero tutto l'interesse, Savasandir, a reintrodurre il nomos, la legge che disciplina la legge del più forte di natura e che introduce margini di democrazia, di diritti sociali, di leggi a vantaggio dei più deboli. Diceva il cardinale Richelieu che in fondo governare non è altro che far credere e questo avviene anche oggi nella governamentalità liberista che riesce a governare nella misura in cui riesce a far credere anche a quanti traggono solo un documento dalla ragione liberista, non di meno riesce a far credere anche a loro la bontà della tenuta sistemica del liberismo e quindi li trasforma in sudditi che in maniera ortodossa accettano il dominio della legge di natura anziché ad operarsi per contrastarla e a fare introducendo forme di diritti e di democrazia. Sotto questo profilo ancora una volta la narrazione platonica del Gorgia credo possa insegnarci molto anche nel presente quadro storico. Grazie a tutti.